Benvenuti ad una nuova lezione di storia. Oggi parleremo di cosa accadde tra 300 e 400 alle più importanti monarchie europee, quella inglese e quella francese, mentre gli abitanti dell'Europa si trovavano in grande difficoltà per la crisi economica e l'epidemia di peste. Infatti questa grave situazione fu ulteriormente complicata da una lunghissima guerra combattuta tra Francia ed Inghilterra che durò complessivamente più di 100 anni, dal 1337 al 1453, da cui il nome di Guerra dei Cent'anni. Fondamentalmente la causa della guerra fu un problema legato alla successione al trono francese. Nel 1328 Carlo IV, re di Francia della dinastia dei Capetingi, morì senza lasciare eredi diretti e sul trono salì Filippo VI della dinastia dei Valois, cugino del re defunto e riconosciuto come legittimo sovrano da un'assemblea di vescovi e grandi feudatari. Anche il sovrano d'Inghilterra, Edoardo III, accampò diritti di successione, in quanto nipote di un precedente re francese, Filippo IV il Bello. La guerra che seguì si combatté tutta su suolo francese. Deciso a far valere la legittimità della propria successione, nel 1337 Edoardo III si fece nominare re di Francia dai suoi vassalli francesi e dichiarò guerra a Filippo VI. La prima fase della guerra dimostrò una netta superiorità degli inglesi, ma la situazione si ribaltò con l'intervento di Giovanna d'Arco, una giovane contadina della Lorena, convinta di aver ricevuto dall'arcangelo Michele il compito di guidare le truppe francesi. Catturata durante l'assedio di Parigi, venne processata per eresia dai suoi nemici, ingiustamente condannata e bruciata sul rogo nel 1431. La guerra si prolungò tra alterne vicende e si concluse con la sconfitta degli inglesi nel 1453 e la definitiva affermazione della monarchia francese sotto la dinastia dei Valois con Carlo VII. Per l'Inghilterra gli anni successivi alla guerra dei cent'anni non furono tranquilli. Scoppiò infatti una vera e propria guerra civile per la conquista del trono. La furibonda guerra si scatenò tra due fazioni nobiliari, quella degli York e quella dei Lancaster, ognuna delle quali voleva imporre sul trono un proprio rappresentante per sostituire Enrico VI, il re folle. Poiché esse avevano come emblema rispettivamente una rosa rossa e una rosa bianca, lo scontro prese il nome di Guerra delle Due Rose e durò dal 1455 al 1485. Al termine della guerra, dopo anni di massacri, salì al trono Enrico VII Tudor, legato alla casa dei Lancaster, da vincoli di parentela. Il nuovo re fu molto abile, riuscì infatti a porre fine alla guerra civile sposando Elisabetta di York. La dinastia Tudor avrebbe regnato in Inghilterra per oltre un secolo.